Ciao Stefano, per l'abbinamento di oggi ho portato il marzemino superiore della linea Musivum. Musivum è la nostra linea di vini che va a valorizzare le singole parcelle di territorio, quelle che i francesi chiamerebbero cru, che si differenziano per la zona circostante per una maggior qualità nelle uve date per esempio da una diversa composizione del suolo, una diversa esposizione e una diversa maturazione delle uve stesse. Per il Musivum, marzemino superiore, abbiamo dei processi particolari in cantina e anche in vigna. Per esempio, metà delle uve beneficia di un periodo di appassimento in cella in modo da concentrarne maggiormente sapore e struttura e arricchire il nostro vino. A fermentazione ultimata, poi, una parte del vino beneficia anche di un periodo di maturazione in legno, in barrique di rovere francese, per arricchire nel contenuto di sapore e aromi e anche armonizzare la beva. Poi va in bottiglie e solo dopo un periodo di tempo piuttosto lungo viene etichettata e numerata a mano ogni singola bottiglia. Nel calice il Musivum, marzemino superiore, si presenta con un colore molto carico, impenetrabile. Il naso esprime appieno tutta la sua potenza. Ci sono note che vanno nel sottobosco e sul legno, dei richiami anche di torrefazione e tostatura. Ma non manca la parte di frutto succoso e polposo tipico del vitigno marzemino. Il sorso è interessantissimo. La beva entra larga, entra succosa e poi si slancia totalmente grazie a una grandissima acidità. Piacevolissima la trama tannica che ne fa da contorno e supporta lo slancio di beva. Quindi perfetto per essere bevuto sia in abbinamento e anche nella meditazione. I sapori che rimangono anche in questo caso piacevoli ed eleganti e persistenti. Un vino ottimo bevuto da solo in una situazione conviviale ma grande anche in abbinamento, per esempio con un gran secondo piatto come il filetto al pepe verde di oggi. Per apprezzarlo al meglio lasciatelo respirare 20 minuti o mezz'ora prima e preferite un calice ampio. La temperatura ideale è di 16-18 gradi centigradi. Vi auguro un buon abbinamento e vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.